E lei ci va alla pesta per Falcone e Bossellino? C'è chi da fare la pesta? Una pesta è una pesta per ricordare qualcuno. Ci sono altre cose più importanti da fare la prima di fare la pesta. Ora c'è una pesta qua con i cantanti neomelodici. È in onore di Falcone e Bossellino. Ci venite o no? Io me la penso. Ci viene da ascoltare i cantanti per Falcone e Bossellino che ci sono qua. Non ti interessa? Allora dimmi perché non ci vai. Perché non ci sono impegni più importanti senza offesa di Falcone. Ci sono impegni più importanti. La famiglia viene prima di Falcone. Le cose più importanti è vero. Ci sono cose importanti. Però anche questa è una cosa importante. E' una persona che è brava, no? Per loro, per me no. Peccato. Ci sono i cantanti neomelodici. Che me ne frega di cantare. I babbaluci sono meglio. Certo. Una bella succa dei babbaluci. Una bella biglia. Scusi, ma qui, perdona se intervengo, ma qui ha legalità allo zento. Come siete messi? No. Certo. Certo. Come siete messi? Certo. Certo. No.